Ciao, sono Massimo Alberizi, sono candidato pensionato nelle liste di Piazza Pulita all'Imgi senza bavaglio. Pensionato sì, ma non ho rimpianti, io sono stato uno degli ultimi corrispondenti, sono stato corrispondente dall'Africa per il Corriere della Sera, ho viaggiato in lungo e largo, ho coperto genocidi, guerre, carestie, sono stato rapito anche in Somalia. Io penso soprattutto ai giovani, ai giovani che questo mestiere lo fanno costretti dai loro direttori, ma soprattutto dai loro editori, con un copia e incolla, spesso non si alzano dalle scrivanie, non vanno in giro, fanno un mestiere che non è quello che avevano sognato, era il mestiere più bello del mondo. Ma chi ci ha ridotto in queste condizioni? Sì, gli editori, è vero, ma non solo, anche un sindacato in belle che è stato connivente con gli editori e ha lasciato loro fare quello che volevano. Un sindacato che ci ha dato l'equocompenso per i freelance, che ha prepensionato un sacco di colleghi, ha dato adito ai direttori di mandare via i colleghi scomodi, i giornalisti scomodi. Ormai siamo costretti a fare questo mestiere come un altro, come qualsivoglia altro mestiere. No, il nostro ha una valenza democratica. Ecco, noi questo chiediamo ai nuovi dirigenti dell'Ingi che vogliamo essere noi perché vogliamo aprire i forzieri, aprire gli armadi per vedere cosa è successo in questi anni, come hanno fatto a ridurre un ricco istituto di previdenza in un istituto di previdenza moribondo. Ecco, gli scandali che hanno sconvolto il nostro istituto di previdenza non hanno fatto dimettere nessuno. Ma com'è che non si dimette nessuno? Negli altri istituti coinvolti dagli scandali si è dimessa la gente? Ecco, io vi chiedo, votate, votate per il vostro futuro, votate i candidati di Piazza Pulita all'Ingi. Li trovate sul sito www.senzabavaglio.info. Noi non facciamo promesse che poi non siamo in grado di mantenere. Noi vogliamo mantenere le nostre promesse. Quindi una pensione adeguata per tutti, freelance collaboratori ma anche contrattualizzati. Non abbandonare il posto di lavoro, non essere cacciati dai giornali come stanno facendo ora e l'Ingi ha avallato stati di crisi per i quali sono stati cacciati le signe di colleghi. Ecco, io vi chiedo questo, ritorniamo al nostro lavoro, vogliamo ridare la dignità al giornalismo e ai giornalisti. votate i colleghi di Piazza Pulita all'Ingi senza bavaglio. Li trovate, ripeto, sul sito www.senzabavaglio.info.